ciao sono leonardo viva l'orto che ci mantiene giovani in questo video vi parlerò della coltivazione delle patate 27 febbraio taglio le patate in più pezzi per il piantamento a pieno campo la patata ha una polarità da una parte c'è la corona che è quella che vedete che è la parte con le gemme che si chiamano anche occhi e la parte opposta con nessuna gemma o quasi sempre da preferire nel taglio le gemme della corona ecco si taglia in senso longitudinale come vedete e bisogna far sì che ogni pezzo abbia almeno una gemma ecco qua ne taglio un'altra ecco qua faccio ancora altri due pezzi dopo il taglio le patate le ho messe in magazzino a luce diffusa siamo al 5 marzo quindi una settimana dopo il taglio e questo tempo serve per facilitare la cicatrizzazione del taglio che è importante come prevenzione alle malattie questo è un appezzamento arato nell'estate precedente estirpato due volte nell'autunno con fresatura su terreno ghiacciato in gennaio essendo un appezzamento non coltivato da tanti anni in cui ho fatto crescere l'erba spontanea questo l'ha reso ancora più fertile per cui non ho usato nessuna concimazione è importante aspettare almeno tre quattro anni prima di far ritornare la patata sullo stesso terreno e questo serve come prevenzione alle malattie sia di origine funghina insetti nematodi in certi terreni non fertili poveri si può essere dato del concimio organico ad esempio dello stallatico pellettato o simile la dose può essere sui due tre quintali ogni mille metri quadrati comunque per maggiori informazioni sulla preparazione del terreno e sulla concimazione organica potete cliccare sulla i in alto a destra mediante moto coltivatore ed assolcatore faccio i due solchi per il piantamento delle patate con una distanza di 120 cm tra i due solchi e questa distanza è motivata dal fatto che poi devo fare il solco in mezzo che mi servirà anche per l'irrigazione però la patata avendo l'attrezzatura giusta può essere messa anzi la distanza ottimale tra le file di 60 a 70 cm è importante l'epoca di piantamento anche perché la patata una volta che è spuntata dal terreno teme le gelate cioè la pianta può anche morire ma se non muore la crescita comunque non è buona e può presidicare il raccolto quindi bisogna regolarsi a seconda della zona di coltivazione qua in fondo ai solchi metto un po di terra fine che prendo ai lati e questo per favorire una buona radicazione dei pezzi delle patate e adesso metto giù i pezzi in fondo al solco a una distanza di circa 30 cm quante patate occorrono come quantità a seconda della superficie che si ha a disposizione per rispondere a questa domanda ci sono molte variabili perché la patata può essere messa intera o a pezzi anche alla distanza fra i solchi può variare diciamo in linea di massima 2 3 quintali ogni mille metri quadrati di superficie dopo che ho sistemato tutti i pezzi in fondo al solco provvedo manualmente mediante un badile a interrarli è sufficiente 10 15 centimetri di terra sopra qua interramento finito 25 aprile qua le patate fanno fila uno sguardo più da vicino 11 maggio patate alte circa 10 15 centimetri qui ho provveduto a fare il solco in mezzo alle due file 23 maggio le patate sono alte circa 30 centimetri e eseguo la rincalzatura cioè adossare la terra alla base della pianta delle piante con lo scopo di fornire più terra soffice ai tuberi che sono in accrescimento sotto e mi arrangio con l'attrezzatura che ho a disposizione uso lo stesso assolcatore che ho usato per fare i solchi e l'assolcatore è un attrezzo che insomma rispetto all'incalzatore è un po' diverso ecco qua concludo il solco faccio quell'altro che poi questi solchi quello centrale quella sinistra destra poi li userò per l'irrigazione quindi hanno due funzioni infatti tutti questi solchi poi finisco il lavoro mediante la zappa mettendo la terra fin sotto la base della pianta ecco qua faccio vedere come faccio dal 27 maggio al 25 giugno circa ogni sette giorni do l'acqua a scorrimento alternativamente lungo i tre solchi a seconda della necessità ecco qua ancora l'acqua non è arrivata in fondo ovviamente c'è una leggera pendenza ecco qua siamo al 30 maggio si vede bene la differenza a destra la varietà più precoce la monalisa che è più bassa di taglia una varietà a pasta gialla e a sinistra fino a metà del solco una varietà a ciclo più tardivo la desiree una patata buccia rossa e poi dopo la metà di nuovo la monalisa in questo periodo ho fatto un unico trattamento contro la peronospora che è la malattia funghina più importante per la patata e le solanacee in genere perché può portare anche al dissecamento della pianta con la perdita del raccolto lo sviluppo della peronospora è favorito dalle alte temperature e da umidità anche alta e anche da sbazzi termici qua si vede come la varietà più precoce alcune punte delle foglie incominciano a seccarsi che indice appunto di questa malattia è un inizio bisogna intervenire quando si incomincia a vedere questo ho usato un trattamento rameico sono intervenuto con un trattamento rameico con l'ossiclurro di rame circa 15 grammi ogni 10 litri d'acqua ne ho usato poi però dipende dipende dal nome commerciale del prodotto però più o meno ecco qui sto trattando tutte le solanacee partendo dai pomodori 11 giugno provo a raccogliere qualche patata per vedere a che punto è di crescita e per vedere anche a che stadio è la buccia esterna ecco qua non mi posso lamentare come pezzatura come si vede la terra è umida in profondità queste sono le patate che ho raccolto ne prendo una ecco per far vedere la buccia ecco la buccia ancora non è superificata infatti si toglie e a questo stadio le patate vengono chiamate novelle nove luglio a circa 120 giorni dalla semina in questo giorno raccolgo tutte le patate anche se la mona lisa che è un ciclo più precoce si poteva anche raccogliere 10 15 giorni prima e la desiree che è un ciclo un po più tardivo si poteva anche raccogliere fra 15 20 giorni ma per comodità le raccolgo tutte in questo giorno anche per la raccolta delle patate mi sono arrangiato con questo attrezzo che non è proprio l'ottimale come si vede e queste sono tutte le patate raccolte poi le ho pesate ed erano due quintali quindi considerando 80 metri quadrati di superficie di coltivazione rapportandolo a mille metri quadrati è come raccogliere 25 quintali ogni mille metri quadrati ovviamente io ho dato l'acqua senza irrigazione in coltura asciutta la quantità raccolta può essere molto molto di meno bene questo video è finito io vi saluto vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale a mettere mi piace a fare domande commenti e per finire dirò come sempre viva l'orto che ci mantiene giovani